Come sapete sono una collezionista di trading card autografate della WWE. Volete vedere qualche nuovo pezzo? E allora eccovi uno straordinario Roman Reigns. Ovviamente firmato personalmente dal capo tribù, proveniente dalla collezione NXT 2022. O ancora Bianca Belair, eccola qua, della serie Undisputed 2021. Straordinaria. Pensate, una rarissima trading card di Hulk Hogan del 1982 è stata recentemente venduta per più di 51.000 dollari. Un record assoluto per questa tipologia di cimeglio legato al Pro Wrestling. Mi piacerebbe farvi vedere pure quella, ma è giusto un po' oltre al mio budget.